Bentornati su N7 Italia, il canale dedicato alla serie Mass Effect. Siamo all'ultimo video dell'anno e non poteva esserci occasione migliore per parlarvi del futuro del canale. Se ho fatto i conti bene, nel 2023 ho pubblicato un totale di 70 video tra normali e short e anche se mi dispiace cominciare con una brutta notizia, devo dirvi subito che per l'anno prossimo prevedo sicuramente di pubblicarne di meno. La ragione è molto semplice, purtroppo negli ultimi mesi non sono più stato in grado di portarmi avanti con la preparazione dei video, cosa che in passato sono quasi sempre riuscito a fare. Il risultato è che c'è stata qualche giornata in cui mi sono trovato a provare quella spiacevole sensazione della scadenza da rispettare, del video che deve uscire per forza il sabato mattina. A pensarci bene è una sensazione assurda, perché preparare video su Mass Effect e pubblicarli su YouTube per me non è una professione, è un hobby, una passione a cui dedico il mio tempo libero e ho deciso io di fare un video a settimana, nessuno me l'ha imposto. Sì va bene, c'è l'algoritmo di YouTube che secondo alcuni ti considera di più se pubblichi con una certa regolarità, ma chi se ne frega, non è stato di certo l'algoritmo motivarmi negli ultimi tre anni. N7 Italia esiste grazie a voi e alla passione per Mass Effect che abbiamo in comune e se sento di dover rallentare con la pubblicazione dei video, la mia unica preoccupazione è quella di chiarirvi che si tratta solo di un problema di tempo, non è che ho esaurito gli argomenti o che mi è passata la voglia, tutt'altro. Il canale quindi va avanti, non vi preoccupate, e non so voi ma io voglio essere ancora qua quando finalmente arriverà il prossimo Mass Effect, anche se ci dovessero volere altri 6 o 7 anni. Ecco allora cosa ho deciso di fare per l'anno prossimo. Potevo prendermi tipo un mese di pausa e provare così a recuperare il solito ritmo, ma dopo un po' mi sarei ritrovato probabilmente nella stessa situazione di oggi, quindi penso sia meglio abbassare subito l'asticella. Quello che intendo garantirvi per il 2024 è un video di lunghezza normale, non uno short, ogni due settimane. Questo per me è un ritmo sicuramente sostenibile, che mi lascia tranquillo e che mi permette anche di tornare a portarmi avanti con i lavori, così da non trovarmi strangolato nei momenti in cui il mio tempo libero si riduce a zero per altri motivi. Chiaramente non voglio dire che d'ora in poi pubblicherò sempre e solo ogni due settimane, anzi mi aspetto che capiti solo nei periodi peggiori. Si tratta insomma del minimo garantito e magari potrà capitare la settimana in cui in teoria non avrei dovuto pubblicare niente e vi ritrovate invece con un video sorpresa o almeno con uno short. Vedremo come andrà, poi comunque faremo i conti alla fine del 2024. Detto questo voglio però darvi anche un'altra notizia, stavolta positiva, che spero compenserà in qualche modo la riduzione della mia attività su YouTube. Me lo avete chiesto varie volte, ci ho ragionato e mi sono finalmente deciso ad aprire uno spazio su cui potremo chattare insieme su vari temi relativi alla serie Mass Effect. Come strumento, per semplicità e per comodità, ho scelto Telegram, su cui ho già creato un gruppo pubblico chiamato naturalmente N7 Italia e che troverete suddiviso in 8 o 9 topic, non so quanti saranno alla fine, comunque più o meno dovrebbero essere questi. Essendo pubblico in teoria lo dovreste trovare semplicemente cercando N7 Italia con la ricerca di Telegram, ma se non lo trovate, usate questo indirizzo. Se l'idea vi piace, vi aspetto. Potete anche solo collegarvi per dare un'occhiata, non siete costretti ad unirvi al gruppo per leggere la chat. Se invece volete unirvi, ricordatevi di nascondere il vostro numero di telefono, di limitare chi vi può aggiungere a gruppi e canali e di ricontrollare in generale le vostre impostazioni della privacy, che in questi casi è sempre una buona cosa. Poi più avanti, da gruppo pubblico potrei farlo diventare privato, ma prima vediamo quanta gente arriva. Ok, per oggi è tutto, video veloce, vi faccio i miei auguri di buon anno e ci risentiamo nel 2024 con un nuovo video su Mass Effect. Ciao!